Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6. Questa mattina il consigliere regionale Guerino Testa a nome della regione Abruzzo ha consegnato un riconoscimento agli agenti del reparto volo della Polizia di Stato per aver salvato la piccola Nicole ritrovata lo scorso 3 aprile in un paese molisano dopo una notte di ricerche. Paolo Renzetti. Avevano ritrovato e tratto in salvo lo scorso 3 aprile la piccola Nicole di 5 anni in Molise per questo 9 agenti dell'undicesimo reparto volo della Polizia di Stato di Pescara hanno ricevuto questa mattina un riconoscimento da parte della regione Abruzzo. Il riconoscimento è stato consegnato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa che ha sottolineato il grande gesto degli agenti in servizio all'aeroporto di Pescara. Una cerimonia sentita, commovente, molto partecipata, ringrazio il comandante Rossi dell'undicesimo reparto volo di Pescara, tutto il suo equipaggio, tutta la Polizia di Stato che oggi con i massimi vertici era presente per ricordare la bellissima vicenda al lieto fine del 3 aprile quando hanno ritrovato la piccola Nicole nel Molise. Il faro sulla loro attività deve essere acceso a 365 giorni all'anno e bisogna dare un giusto lustro a un lavoro difficile, complicato, svolto spesso con condizioni meteorologiche avverse e anche in condizioni molto impervie. Quindi complimenti per tutto quello che fanno. Ringraziando il Presidente Guerino Testa di questo riconoscimento che certamente ci fa piacere e ci lusinga, ringraziandolo per tutto quello che fa, peraltro per le forze dell'ordine perché il Presidente Testa non è nuovo a queste iniziative e dà una particolare sensibilità per le forze dell'ordine e per la Polizia di Stato in particolare. Ripeto, noi per quanto ci riguarda abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, assolutamente nulla di più. Abbiamo conseguito un risultato, ci fa piacere, ma noi lavoriamo per conseguire i risultati. Questo dobbiamo fare e questo abbiamo fatto. Un'operazione quella in terra molisana come tante altre che avete portato a termine in questi anni come undicesimo reparto volo di Pescara? Sì, perché noi con le varie regioni che abbiamo come competenza territoriale veniamo spessissimo chiamati per interventi di ricerca e soccorso in montagna e in mare e quindi quando veniamo chiamati cerchiamo sempre di rispondere nell'immediatezza, nel più breve tempo possibile di intervenire e se possibile salvare vite umane e quindi fare, ripeto, il nostro dovere. Ancora un nuovo ostacolo per la vendita degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva. Il Consiglio di Stato concede la sospensiva al ricorso di Finori bloccando la vendita delle infrastrutture ai fratelli Persia. La stagione estiva per quest'anno è di fatto saltata. Tania Bonnici Castelli. Una serie televisiva non avrebbe avuto gli stessi colpi di scena che stanno vivendo Prati di Tivo e Prato Selva. La stagione estiva sembrava essere salva dopo il diniego della sospensiva del Tar al ricorso contro la Gran Sasso Teramano dell'imprenditore Marco Finori, gestore degli impianti del comprensorio sciistico. Finori non aveva rispettato i termini del bando pubblico per la gestione delle infrastrutture di Prati di Tivo e Prato Selva, non presentandosi davanti al notaio per la firma definitiva. E così la GST, dopo la decisione del Tribunale amministrativo, stava già procedendo a rogito notarile per la vendita degli impianti alla ditta dei fratelli Persia. Questi ultimi erano arrivati secondi in graduatoria nel bando di evidenza pubblica, offrendo per l'acquisto delle infrastrutture 1.590.000 euro con il saldo dei crediti dovuti all'ASBUC. Era stata appena fissata la data per il contratto d'acquisto tra la Gran Sasso Teramano e i fratelli Persia, quando è arrivata una doccia gelata per tutti. Il Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva della sentenza del Tar, che si era dichiarato incompetente in materia, in attesa della trattazione collegiale del 12 luglio. Se il 12 luglio il Consiglio di Stato darà ragione a Finori, si riapriranno le trattative con la GST. Se gli darà torto, l'imprenditore marchigiano avrà 30 giorni per riconsegnare gli impianti. Comunque andrà, sarà un insuccesso per la stagione turistica estiva in montagna, che non è più da considerare a rischio. È praticamente saltata. Il porto di Giulianova rischia di perdere circa un milione di fondi europei a denunciare il ritardo dei lavori e i conseguenti disagi della marineria. È stato il consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe, il servizio di Stefano Recanati. Non solo le difficoltà legate al caro gasoglio, che ha costretto i pescarecci a tenere Giulio Ormeggi, ma al porto di Giulianova le problematiche si raddoppiano dopo la realizzazione del nuovo braccio nord, causa dell'insabbiamento nei pressi dell'imboccatura. È costante, col mare in pop che ci sono le onde alte, quando arrivi qua ha poca acqua, che fa la barca punta, c'è possibilità di ribaldamento, di intraversamento, perché una volta che la barca tocca se ne va in valida delle onde, non governa più. Quindi già siamo scarichi alleggeriti, perché se no non entriamo. E quindi la barca gioca, fa come una signorina, quindi è difficile mantenerla entrando in queste condizioni. Al dibattito organizzato stamattina presso il molo nord dal Partito Democratico, presenti le associazioni di categoria come il Flag Costa Blu. Il presidente Nino Bertoni chiede di mettere da parte le beghe politiche e di dare risposte concrete. Noi abbiamo bisogno di una politica che sia attiva, che sia costruttiva, che risolva effettivamente i problemi che ci sono, non solo a livello locale, ma a livello provinciale e nazionale. C'è ancora tempo per rimediare a queste carenze? Tutto è risolvibile, basta volerlo, basta sedersi intorno al tavolo, discutere in maniera civile e soprattutto costruttiva e cercare di risolvere tutti i problemi che ci sono. Il porto di Giulianova, secondo il consigliere regionale Dino Pepe, rischia di perdere circa un milione di euro per le infrastrutture necessarie. La deadline prevede la realizzazione entro il 30 settembre di almeno il 50% degli investimenti programmati dai servizi igienici alle torri faro. Oggi noi presentiamo insieme alla comunità della pesca di Giulianova e del porto di Giulianova un'interpellanza al governatore Massilio per sapere i tempi e il cronoprogramma di realizzazione di questi interventi. La cronaca, un agente di polizia penitenziaria di 56 anni e una 29enne pescarese sono stati arrestati dopo il sequestro di droga destinata a detenuti del San Donato. Intercettata dagli agenti della sezione antidroga che si sono insospettiti per i suoi comportamenti, la giovane, il cui compagno è detenuto nel carcere pescarese, è stata vista incontrare un uomo in uno spiazzo vicino, la casa circondariale. Gli agenti sono intervenuti quando hanno notato la consegna di un plico all'interno del quale sono stati rivenuti circa 20 grammi di cocaina già suddivise in dosi, nonché 200 grammi di hashish ed un telefono cellulare di dimensioni molto ridotte e di facile occultamento. Poi si è appreso che l'uomo destinatario della droga è un dipendente della polizia penitenziaria che aveva appena finito il proprio turno di servizio all'interno del carcere. Gli investigatori hanno tratto in arresto la donna e successivamente anche l'agente, poiché si è ritenuto verosimile che la sostanza stupefacente fosse destinata a essere ulteriormente spacciata in carcere. Protesta da parte degli avvocati del foro di Avezzano contro la soppressione dei tribunali minori, manifestazione scaturita da una assemblea delle toghe e che ha come conseguenza l'astenzione dalle udienze per una settimana in servizio. Prosegue la battaglia a difesa del tribunale di Avezzano. Si è tenuta l'assemblea degli avvocati del foro che hanno indetto l'astenzione dalle udienze civili e penali per almeno otto giorni. La protesta ha lo scopo di scongiurare la soppressione del presidio di giustizia. Altro tema affrontato questa mattina è la carenza dell'organico dei dipendenti. E' stata indetta l'astenzione dalle udienze civili e penali per almeno otto giorni, sette, otto giorni, vediamo un pochettino, secondo come permette il regolamento. E nello stesso tempo iniziative che possono accompagnare questa astenzione dirette a verificare la possibilità concreta di far permanere il tribunale di Avezzano. E' chiaro, sono iniziative che devono essere dirette verso il ministero dove troviamo più di un ostacolo ogni volta che facciamo delle richieste e comunque anche al CSM dove però non possiamo rimproverare granché perché siamo un organico pieno dei magistrati. Per cui si verifica l'anomalia nel tribunale di Avezzano che l'organico dei magistrati è organico pieno, mentre l'organico dei dipendenti è al di sotto del 54%. Noi abbiamo una scopertura dei dipendenti del 54% che è una cosa veramente assurda perché il problema è un po' nazionale, la carenza di organico dei dipendenti amministrativi riguarda un po' tutti i tribunali d'Italia. Ma nell'ordine del 20, 25, qualche volta anche del 30% ma il 54% è veramente assurdo. Rischiamo la paralisi dell'amministrazione perché non ci stanno i dipendenti che pubblicano per esempio i dipendenti magistrati che invece sono a organico pieno. C'è questa anomalia che va necessariamente colmata. Quindi il tribunale rimane aperto fino a tutto il 2023 però adesso la battaglia si è spostata su un altro fronte che è quello proprio dell'occupazione. La battaglia della soppressione del tribunale rimane sempre aperta perché è quella la principale, è chiaro. Poi l'altra battaglia è quella dei dipendenti, certo è importante perché il tribunale non funziona senza dipendenti e quindi bisogna assolutamente fare in modo che il ministero mandi il personale perché possano lavorare i provvedimenti che serve di lavorare per il tribunale. Sono 895 nuovi casi di positività al covid registrati oggi in Abruzzo ed emersi dall'esame di 1237 tamponi molecolari e 3460 test antigenici per un tasso di positività pari al 19%. I nuovi casi provengono 234 dalla provincia dell'Aquila, 258 da quella di Chieti, 206 da quella di Pescara, 185 da quella di Teramo, 26 da fuori regione mentre sono scesi di 16 unità, quelli per i quali sono in corso accertamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.363 poiché si registrano 7 nuovi casi, una 79enne e una 87enne della provincia di Teramo mentre 5 decessi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Nelle ultime 24 ore sono 806 dimessi guariti, gli attualmente positivi salgono a 17.634 più 80 rispetto a ieri, 116 sono i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, meno 11 rispetto a ieri, 2 in terapia intensiva più 1 rispetto a ieri. Cambiamo pagina con l'avvio della stagione balneare, riparte a Montesilvano il progetto di mare senza barriere fortemente voluto dall'ufficio di Sabili del Comune stesso, vediamo il servizio. Sindaco De Martinis, è questo del mare senza barriere un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale? Sì assolutamente, da anni abbiamo inteso regalare e regalarci questa bella realtà che è la spiaggia accessibile e che abbiamo negli anni sempre più migliorato fornendo servizi a chi è fruitore di questa spiaggia. Quest'anno c'è qualche servizio in più anche grazie alla collaborazione dell'ASD fuoristrada che ha organizzato delle manifestazioni proprio qui sul lungomare volte a ricavare fondi per l'acquisto di seggioline e tanto altro che potranno ancora di più dare in qualche modo servizi ai fruitori della spiaggia. E anche lo stabilimento della Riviera nella persona del titolare Leo che anche lui ha collaborato affinché questo accadesse. Siamo molto orgogliosi, siamo felicissimi anche quest'anno di poter in qualche modo fornire un servizio importante alla città, un servizio e una spiaggia per la quale ringrazio infinitamente Claudio Ferrante e l'ufficio di Sabili, il consigliere delegato Giuseppe Manganiello ma anche il tecnico Marco Amadio che da anni si occupa appunto della presposizione di logistica e di tutto quello che vedete e di tutto quello che abbiamo in qualche modo realizzato. Claudio Ferrante è un altro bel progetto che come ufficio di Sabili del comune di Montesilvano avete portato a termine, iniziata la stagione balneare e non poteva iniziare meglio. Per le persone diversamente abili che hanno il diritto di poter usufruire della spiaggia. Assolutamente sì, io sono veramente fiero, onorato, orgoglioso perché grazie al comune di Montesilvano siamo riusciti a sgretolare le barriere culturali e quelle architettoniche. Non ci scordiamo che qui c'è stato un ministro che ha dichiarato che questo è un prototipo nazionale, un'eccellenza ed è il vero senso del turismo accessibile. Quindi siamo orgogliosi, Montesilvano lo deve essere, lo deve essere l'Abruzzo e mi permetto di dire una volta tanto facciamo scuola in Italia perché alcune regioni del nord sono venuti qui da noi, il sindaco lo sa, proprio a studiare questi requisiti straordinari che noi mettiamo in campo. Quindi davvero abbiamo lavorato sull'ambiente per sgretolare tutte le barriere e per restituire libertà, dignità e pari opportunità a tantissimi cittadini di Montesilvano e tantissimi turisti locali e non. La Giunta Masci ha presentato il programma degli eventi culturali che si svolgeranno durante i mesi estivi negli spazi interni nel piazzale Michelucci dello storico edificio dell'Aurum di Pescara. La vediamo. Antonelli, l'amministrazione comunale punta sempre più anche su eventi culturali ma punta anche molto sull'Aurum? Assolutamente sì, è un luogo che questa amministrazione, ma insomma parallelamente a quanto è accaduto in passato, tende a valorizzare. Mi pare che l'iniziativa dell'assessore alla cultura Carota, della neoassessore, vada proprio in questa direzione ed è un bellissimo segnale di valorizzazione dell'Aurum come patrimonio della città adriatica ed è anche la dimostrazione che si può far bene spendendo poco. E in questi tempi un'amministrazione pubblica che realizza molti eventi non facendo gravare tutto questo sulle tasche dei cittadini credo che sia veramente un bellissimo segnale e quindi devo dare atto all'assessore Carota di aver fatto un ottimo lavoro che andrà a concretizzarsi proprio nel corso dei mesi estivi. Quest'anno inauguriamo una rassegna contenitore che abbiamo deciso di denominare Cultura Aurum che parte dal 19 di giugno e finirà alla fine del mese di settembre e raccoglierà le migliori espressioni locali ma anche regionali e nazionali di cultura sotto tutte le varie espressioni. Ospiteremo presentazioni di libri, ospiteremo dei concerti, delle rassegne storiche per la città di Pescara, ci saranno delle mostre, concerti vari, insomma c'è un po' di tutto e soprattutto per tutte le fasce di età e per tutti coloro che verranno anche in visita nella città di Pescara perché è un calendario culturale e importante anche per la promozione della città. Devo dire che l'assessore Marietta Carota ci ha creduto molto, ci abbiamo investito più che altro in energie e siamo riusciti veramente a comporre un contenitore straordinario per la città con figure importanti da Sgarbi a Vincenzo Olivieri, a Di Tonno, a Maurizio di Fulvio, insomma poi abbiamo libri da presentare. È veramente un contenitore straordinario per cui dal 19 di giugno al 21 settembre i pescaresi continueranno ad avere nell'Avrum un punto di riferimento alla cultura cittadina. Lunedì sera le leggende di Juventus e Milan si affronteranno al Palamagetti di Roseto per una serata all'insegna dello sport tra i bianconeri attesa soprattutto per Alessandro Del Piero nel Milan anche l'ex allenatore del Pescara. Massimo Oddo, il servizio. Questa iniziativa nasce per l'amore ovviamente della nostra città di Roseto e per l'amore dello sport di me e mio fratello e di tutta la mia famiglia. Quindi abbiamo deciso di fare dopo l'evento di Totti un altro evento, trofeo leggende, tra le leggende bianconere e le leggende rossonere. Ovviamente l'ospite della serata, il protagonista principale è Alessandro Del Piero, una delle leggende, il numero 10 per eccellenza e poi ci sono tutti gli altri giocatori, sempre ex giocatori delle squadre. Abbiamo per quanto riguarda la squadra bianconera, ovviamente Del Piero, Chimenti, di nuovo Torna Chimenti, Di Livio, Pepe e Ravanelli. Per la squadra rossonera abbiamo Amelia, Oddo, Ambrosini, Giunti e Brocchi. È una partita di calcio a 5, ci saranno anche delle novità direttamente quella sera lì, che non leggiamo prima. È una partita di calcio a 5, alle 8 e mezza presso il Palavangetti, le porte apriranno alle ore 19. Volevamo inoltre e soprattutto ringraziare il supporto ovviamente del Comune e di tutti gli sponsor che hanno creduto in noi, che ci hanno dato una mano e che hanno permesso che questo sogno si potesse realizzare. Siamo di fatto all'interno della pagina sportiva dopo giorni di riflessioni e con una trattativa, quella con Zeman che sembra non decollare. Il Pescara vira deciso su Alberto Colombo, il 48enne allenatore lombardo e il prescelto per la nuova era biancazzurra. Jacopo Porcella. Pochi dubbi ormai, Alberto Colombo con ogni probabilità guiderà il Pescara nella prossima stagione. Le incertezze di Zdenek Zeman e la trattativa che sembra non essere decollata definitivamente hanno suggerito alla società biancazzurra di virare nettamente sull'ormai ex allenatore del Monopoli, individuato come profilo già da qualche giorno e che col boemo era entrato in una specie di ballottaggio che si è risolto proprio con la scelta di Colombo. 48 anni da Bosisi o Parini, in provincia di Lecco, ha giocato in Serie B con le maglie di Como, Albinonef e Monza, carriera conclusa nel 2006 con il Montichiari in C2. Appese le scarpette al chiodo, ovvio che il percorso prima alla Berretti e poi in prima squadra non poteva che essere con la Propatria. Poi la Reggiana è una semifinale playoff prima della Dio, l'esperienza su Tirol al posto di William Viali, l'esonero a Vicenza, l'approdo ad Alessandria e nel 2019 il contratto con l'Arzignano Valchiampo, neopromosso in Serie C, con cui però non riesce ad evitare la retrocessione della squadra in Serie D. Dopo tanto nord, due anni fa arriva la prima chiamata dal sud e dal girone C, visto che si accorda con la Virtus Francavilla, subentrato all'esonerato Bruno Trocini e portando alla salvezza la formazione del presidente Magri. Da Francavilla a pochi chilometri per raggiungere Monopoli, dove quest'anno ha stupito un po' tutti, arrivando a competere con le corazzate Bari e Catanzaro ed eliminando il Cesena, fermato poi solo dallo stesso Catanzaro. Ora, dopo nord e sud, il probabile approdo a Pescara per rilanciare una piazza delusa dall'ultima stagione, vissuta prevalentemente con in sella Gaetano Uteri prima della sostituzione a poche giornate dalla fine con Luciano Zauri. Nelle prossime ore dovrebbe andare in scena il confronto decisivo con la dirigenza, forse già lunedì, e in primis con il direttore sportivo Inpectore Daniele Delicari. Nello staff dovrebbe essere presente anche Renzo Ricci, preparatore atletico già con Colombo nell'esperienza di Monopoli. Poi il via al mercato, che dovrebbe abbassare l'età anagrafica generale di un organico che tra fine prestiti e fine contratto subirà un restyling profondo, ma ha comunque necessità di ritrovare risultati convincenti per cancellare una stagione tribolata. Il girone, quello B, sarà di nuovo il palcoscenico su cui esibirsi, provando a dare al pubblico dell'Adriatico Cornacca l'entusiasmo per riavvicinarsi alle sorti della squadra. Serie D, la vastese calcio assicura piena disponibilità a incontrare gli imprenditori interessati a rilevare la società sulla base della richiesta in merito pervenuta questa mattina dal comune di Vasto. Relativamente alla questione stadio, la vastese ribadisce ancora una volta tutto il malcontento e il rammarico per la perdurante chiusura al pubblico. Da sette anni a questa parte, si legge nella nota diffusa nel pomeriggio dalla società, abbiamo garantito con notevoli sacrifici continuità e solidità al calcio vastese, ma negli ultimi anni, prima con il Covid e poi con le porte chiuse all'Aragona, i problemi si sono acuiti. Cambiamo ora disciplina sportiva, gli europei di calcio a 5 non vedenti, l'Italia batte 3-1 la Polonia e chiude il torneo al quinto posto staccando il pass per i mondiali che si disputeranno ad agosto 2023 in Inghilterra. La gara è stata decisa ancora una volta dal solito Paul Iobbo, autentico trascinatore degli azzurri, il bomber della nazionale segna una tripletta salendo in testa alla classifica dei cannonieri dell'europeo con 11 gol. Vediamo. Sicuramente un grande risultato perché per la prima volta riusciamo ad arrivare a un mondiale, quindi veramente complimenti ai ragazzi, complimenti ai tecnici, insomma hanno fatto un qualcosa di importante. Siamo stati un po' sfortunati perché ovviamente se avessimo vinto la partita contro la Francia, o meglio pareggiata anche, forse oggi saremo a giocarci la finale del terzo e quarto posto, però sono soddisfatto, sono soddisfatto, complimenti ai ragazzi, complimenti veramente a quello che hanno fatto. C'è molta affluenza del pubblico e siamo contenti perché come federazione abbiamo dato tantissimo per l'organizzazione, devo ringraziare tutti i ragazzi, tutto lo staff della federazione, dell'organizzazione, ma è un risultato secondo me eccellente per tutto il mondo paralimpico. È stato un grande campione europeo da parte della nostra nazionale, abbiamo ridotto quel gap con le altre nazionali più forti, con più tradizione e questo ci fa ben sperare anche per il futuro e per il mondiale che ci sarà il prossimo anno. Il banco di prova sarà proprio quello, la federazione si aspetta un'ulteriore crescita da parte di questi ragazzi e poi il mondiale è la massima competizione. Sì, assolutamente, adesso da settembre pianificheremo la nuova stagione in previsione proprio di questo mondiale e siamo fiduciosi perché sono sincero, io ho visto una bella squadra, molto unita, molto forte e quindi perché no, possiamo anche sognare. Sì, siamo molto felici, ci tenevamo tanto a raggiungere questo grande obiettivo, ci tenevamo molto per essere, vi dicevano i miei compagni che per essere ricordati bisognava fare parte della storia, bisognava scriverla e oggi credo che sicuramente l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per tutti, per lo staff, per la FISPIC, per la federazione che ci ha messo tanto, anche se siamo un po' riamaricati, riamaricati per il fatto che per la squadra che eravamo sicuramente potevamo arrivarci anche da terzi bar a quarti per andare a giocarci a meno la semifinale, però l'obiettivo volevamo raggiungerlo a prescindere e quindi ce l'abbiamo fatta. Quindi l'importante è esserci riusciti e ora testa già al mondiale, a partire da settembre, dobbiamo metterci sotto perché sarà molto importante la preparazione che ci aspetta da adesso fino al prossimo anno. È stato l'atleta paralimpico di tennis Andrea Silvestroni, uno degli ospiti illustri della quattordicesima edizione della festa dello sport giovanile che si è tenuta al centro l'arca di Spoltore, vediamo. L'arca di Spoltore per la quattordicesima edizione della festa dello sport giovanile, tra i premiatori è anche il pluricampione italiano di tennis in carrozzina Andrea Silvestroni. Com'è andata? È andata benissimo, intanto premiare eccellenze under 18 vuol dire premiare il futuro e quindi per me che sono un atleta paralimpico vedere questi ragazzi così giovani, così talentuosi, con questo spirito, questa passione, questa determinazione è qualcosa di indescrivibile. Però lasciami fare una considerazione che mi emoziona ancora di più. Ho potuto notare che tra le eccellenze premiate quest'anno una percentuale molto rilevante era di atleti paralimpici. Credo che questo non sia un caso. Questo dimostra che l'atleta paralimpico, nonostante la disavventura della vita che possa aver incrociato, sa trasformare quella disavventura in grande opportunità, in grande energia, in grande determinazione. E quindi oggi abbiamo premiato non tanto eccellenze dello sport, ma anche persone che hanno dimostrato di avere tanto coraggio. E permettemi di dire, dalla mia esperienza personale, che il coraggio può averlo solo chi ha provato la paura. Chi ha coraggio senza aver avuto paura è incosciente. E avere coraggio non significa non avere paura. Avere coraggio significa avere paura e crederci con tutto te stesso. Quei ragazzi lì vincono le paure, lo trasformano in coraggio e ci credono più di tutti quanti. Un esempio che arricchisce me, ma penso sia un messaggio che arricchisca tutti. Oggi nella festa dello sport ha vinto la vita. Oggi ha vinto la vita, lo sport è vita. Io ripeterò all'infinito che entrare in un campo da tennis o in qualunque altro campo da gioco è metafora della vita. Io quando entro in un campo in qualsiasi parte del mondo porto la sfida contro le mie patologie, che ad oggi sono degenerative, senza cura, ma il senza cura nello sport non c'è come nel tennis, non c'è un fischio finale. Fino all'ultima pallina te la giochi. Io farò la stessa cosa con le mie malattie. Fino all'ultima pallina della mia vita me la giocherò contro le patologie e tutti questi ragazzi ci insegnano a non mollare mai. Il campionato italiano di beach volley farà tappa a Rosetto degli Abruzzi. Le gare sono in programma il 25 e 26 giugno tra i lidi Mediterraneo e Sirenetta. Vediamo. 8 tappe, 1200 partite da disputare, 1000 atleti in campo tra settore maschile e femminile. Questi alcuni numeri del campionato italiano IBVC di beach volley che farà tappa il 25 e 26 giugno prossimi a Rosetto degli Abruzzi. Il mio messaggio è quello di mandare un messaggio sportivo positivo per i giovani. Quindi vorrei che tutti i giovani fossero presenti. Il messaggio è quello della passione, determinazione, anche aggregazione. Perché la cosa più importante oggi è questa. E il messaggio che io voglio mandare è assolutamente questo. Il messaggio importante è anche prendendo spunto dai campioni della nostra regione. Assolutamente sì. Abbiamo grandissimi nomi che ci rappresentano in tutto il mondo, non solo in Italia. Hanno appena svolto e stanno svolgendo la tappa la World di Roma. E quindi siamo orgogliosissimi sia dei giocatori che dell'Italia. Perché comunque è una grande rappresentazione per tutto il mondo questi giocatori di beach volley. Per realizzare questi eventi in estate possono essere, come dicevamo, da volano per far sì che poi queste persone possano arrivare a Rosetto anche da turisti. Certo, noi tra l'altro inaugureremo proprio oggi il primo tratto del nuovo lungomare centrale che si trova proprio di fronte a dove si svolgerà questo torneo. Quindi credo che il turista e lo sportivo che verrà a giocare, ma anche chi verrà a seguire, potrà apprezzare la bellezza di Rosetto. Potrà apprezzarne la grande vivibilità, la sostenibilità e potrà scegliere, mi auguro, nel prossimo futuro di venire qui in vacanza. Insomma, Rosetto deve continuare ad essere la città per la dell'Adriatico. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul rinnovato sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è con la prossima edizione del TG6 alle ore 23. Buona serata. Grazie per la visione.